con il freddo così è tutto molto freddo ecco anche io ho fatto quelli ottimi i glutei e c'è ne ho detto e e e e e i rigatoni i rigatoni dove sono i rigatoni? non ci sono i gnocchi e le farfalle maccheroni rigatoni gnocchi e farfalle niente faccia andiamo a vedere il panettone se me l'hanno messo in offerta non ci sono lì non credo che li troverai mai no no ci sono maina tiramisù maina tiramisù e questo è lo stesso è lo stesso girato non ci sono 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 è questo che cos'è? Winter... Raum Vodka Questa è la migliore che c'è Nemirov Anche la Lukusova non è niente male ma la Nemirov è la besta perché è dell'Ucraina Tutte le altre sono dalla Serpenta C'è un video di Tindiano un arabo che va dentro un hotel c'è un topo e si chiama la reception e non sa come si dice e non sa come si dice no topo in inglese in inglese in inglese in inglese Tom e Jerry in inglese in inglese in inglese in inglese con Com mira In inglese In Inglese Questo qui era il vecchio ospedale e non è cambiato, è cambiato da pochissimo tempo. Siamo aperti per il business.